Mercoledì il presidente Farmindustria si è esposto in maniera molto forte, molto dura, rappresentando proprio il disappunto del comparto rispetto chiaramente alla votazione da parte del Parlamento europeo della nuova legislazione europea. Una giornata della definita drammatica, una giornata nera per l'accesso all'innovazione da parte dei pazienti ed effettivamente la normativa europea è stata sicuramente una necessità perché dopo 20 anni era fondamentale rivedere il quadro normativo anche perché i sistemi chiaramente normativi legali sono sempre più lenti della velocità che chiaramente acquisisce l'innovazione, quindi c'era la necessità di rivedere le cose. Però è una questione anche di come. La riforma europea pone chiaramente limiti sulla data exclusivity, sugli orphan drag e quindi penalizza fortemente l'innovazione e questo chiaramente quando si tratta poi di accesso alle cure innovative è un tema ad alta sensibilità. Sappiamo che l'Europa perde competitività rispetto agli altri top player mondiali. di 10 brevetti, 5 sono brevettati dagli USA, 3 da Cina e 2 soli da Europa. Questo significa che stiamo perdendo competitività rispetto al passato e quindi il tema della UFarma legislation è un tema principalmente politico. Che ruolo vuole giocare l'Europa nei prossimi anni e quanto vuole essere attrattivo per gli investimenti? Sicuramente è un'opportunità da non perdere e ci auspichiamo che il Consiglio e la Commissione europea possano chiaramente aprire un tavolo negoziale che possa portare ad un outcome completamente diverso rispetto a quello che abbiamo finora visto.